allora vedete vedete questo questo a cattura polvere professionale della della pileta vedete questo qui ci vanno dei panni appositi ma io non posso stare sempre a comprare quei panni della pileta allora ho preso questi panni qui adesso ve li faccio vedere sono questi eccoli qua vedete panno antipolvere l'inimitabile panno a tira e tradire nella polvere questo l'ho preso a maurice profumo di vaniglia profumato adatto a ogni superficie antistatico antistatico usa e getta una volta usato misura 21 per 38,5 andiamo a vedere già le ho usati adesso il video lo sta facendo adesso ma questi già le ho usati e funziona che cosa ho fatto io vedete vedete che cosa ho fatto ho preso questo qui e ho messo sotto della gomma piuma questa gomma piuma è quella che ho preso dai cuscinetti delle delle sedie vedete che erano rotti vedete ho preso questa gomma piuma non troppo spessa e così aderisce bene per terra vedete in questo modo aderisce molto bene adesso a questa qui io ci vado a mettere questo però mettendo questo qui che succede che per farlo reggere non è come il sistema brevettato biletta questi questa è una modifica del brevetto biletta vedete l'ho fatta io sta modifica però per farli reggere adesso per farli reggere bisogna attaccarli qui e per attaccarli qui ci vuole ogni volta lo scotch è assurdo allora io adesso ci metto quelle strisce che si usano che sono adesive no bi adesive si usano da tutte le parti andiamo a montare le strisce e vediamo come va ok allora innanzitutto bisogna dare una bella pulita qui a questo così e poi andiamo a prendere queste strisce che ho comprato a brico e andiamo a metterle vediamo dove stanno eccole qua vedete queste strisce che ho prese a brico sono pratiche facilmente pratico per fissare tutti gli oggetti e facilmente riposizionabile prendiamone una già le usate queste direi non c'è bisogno nemmeno di prenderne una intera perché in realtà questo guardate arriva fino a qui quindi inutile che la metto pure qua al centro uno arriva qui allora metto due una a destra e una a sinistra proprio qui non c'è bisogno di metterle metto queste qui o però qui mi sembra rovinata la carta allora vediamo questa vediamo questa facciamo la prova forse dovevo dare una pulita con l'alcol e poi però ma non credo perché è pulito qui facciamo la prova allora abbiamo detto che deve stare qui ecco così bella quindi qua al centro la metto una questione pure di estetica così e poi attacco vedete tac tac ecco un po' tiri e riattacchi perfetto mettiamo pure l'altra dall'altra parte però qui mi si è attaccata la carta non capisco ecco 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 perfetto andiamo a mettere questa dall'altra parte pure qui la mettiamo qui da queste parti qui così ecco e mettiamo questo panno così attaccato tac attacca e stacca no non attacca questo perché qui attacca questo no ah no e ho messo il contrario scusate ragazzi è l'imprevisti della diretta questi sono ho messo il contrario mamma mia ho messo quello contrario a che bella intelligenza che c'ho devo mettere questo questo che che c'ha gli artigli come artiglio del cavolo eccolo qua però lo taglio alla metà perché inutile mettercelo tutto è esagerato metterlo tutto qui non serve a niente ne metto un pezzettino la metà ce ne faccio due con questo lo taglio e ce ne faccio due vediamo e tagliamolo alla metà ecco più o meno la metà è questa giusto così queste sono quelle famosi forbici che ho aggiustato che se non sciva il manico e funzionano adesso adesso vanno bene il manico non esce più perché l'ho risaltato vedete l'ho risaltato ho scaldato il manico d'acciaio e ci ho rificato quello di plastica che si è fuso dentro il manico d'acciaio bollente ecco qua ha visto che errore che stavo facendo stavo mettendo quello sbagliato sarebbe il negativo la femmina il maschio qui c'è no come tutte le cose la femmina e il maschio il bene e il male il negativo e il positivo tutte le cose hanno un merso e hanno un controverso ecco qua adesso si che attacca così e la stessa cosa la facciamo da st'altra parte non so se è il caso di farvelo vedere comunque visto che mi ci trovo è facile allora eccolo qua pure qui una bella pulitina e lo mettiamo ecco qua andiamo a metterlo perfetto adesso me ne manca un pezzettino lo vado a prendere qui ce ne potevo fare pure due con questi ragazzi siccome che mi manca siccome che mi manca io stava pensato di farcene due senza rovinarne un altro così non lo so è un peccato prova a farcene due dai prova a farcene due sono un po' tirchio quindi ce ne faccio due lo taglio così a metà vediamo se non faccio lo rimetto intero non è quello ce l'ho però mi dispiace romperne uno intero quindi questo lo metto così e questo vediamo un po' la distanza qui lo stesso ecco va bene dai e questo così ecco qua ho risolto il problema adesso questo funziona perfettamente perché vedete vedete come adesso aderisce aderisce poi quando non serve uno lo leva ecco qua sotto vedete vedete come aderisce bene vedete sto pulendo il tavolo qui guardate dalla polvere guardate su questo tavolo quanta polvere c'era perché qua non pulisce nessuno e quindi va questi panni che sono xl extra large della vapa oh my car ma insomma non costano molto perché mauris ha i prezzi onesti diciamo e quindi eccolo qua allora se questo video vi è piaciuto mettete un bel mi piace questo è un lavoro che potete fare anche voi invece di usare i panni della vileta che sono più costosi usate soltanto il brevetto vileta che questo aprite vileta professionale questo è ci mettete una una gomma piuma sotto la attaccate con artiglio del diavolo sto scherzando artiglio la colla artiglio bostic qualcosa del genere la spalmate bene ci attaccate una gomma piuma ecco fatto il lavoro vedete ecco qui mettete così quanto vi serve lo levate e lo buttate usa e getta questi mi piacciono perché sono usa e getta e non fanno polvere invece anche il folletto no io l'ho fatto la prova ho pulito un mobile quei mobili che ho alla sala che ho alla sala ho pulito poi ho passato il folletto e sopra il mobile tac e ci ho ritrovato la polvere perché perché la polvere la manda in giro il folletto qualunque aspiratore che sia io non ci credo che ci sono degli aspiratori che non rimandano in giro la polvere la levano da una parte la rimandano sui tavoli sui tavoli su 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 tutte le allea le immobili ok allora invece questo non la manda in alto perché questo questo la assorbe poi lo prendi lo prendi così lo ripieghi tac e lo butti all'indifferenziato e risolto il problema ok allora se questo video vi è piaciuto mettete un bel mi piace e al prossimo video non lo so che ci sanno già video simili di questo ma non credo perché la gente non aggiusta le cose via le butta va bene passo e chiudo